Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. E' uscito ieri il video sui centrocampisti top per quel che riguarda i consigli al fantacalcio. Ve li lascerò qui tutti nelle schere tutta la playlist per potervi andare a vedere ogni tipo di video su ogni ruolo che ho analizzato. E andiamo oggi ad analizzare i centrocampisti di seconda fascia. Usirà oggi proprio questo video. Mentre invece domani ci sarà una pausa essendo Ferragosto e a meno che proprio non crolla il mondo non credo che farò video. E riprenderemo regolarmente il 16 con i video semplici consigli per il fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo ragazzi iniziamo analizzando i centrocampisti di seconda fascia. Quelli diciamo semi top. Allora ragazzi il primo nome che vi vado a dare non è in ordine di classifica ma è semplicemente una lista. E' Under. Under che ha giocato, è nella Roma, gioca centrocampista quest'anno. E' comunque un esterno diciamo il 4-2-3-1 di Fonseca. E' un altro centrocampista da Fanta Gazzetta e secondo me è un'occasione d'oro. Lo metto nei semi top e non nei top, nonostante giochi così avanzati da un giocatore comunque abbastanza propenso al gol. Per il semplice fatto che la sua tenuta fisica non mi convince. Nel senso che comunque già l'anno scorso è stato fuori tantissimo, praticamente tutto il giorno di ritorno, per uno strappo. E di conseguenza non ha mai dimostrato di riuscire a rientrare bene in partita. E quindi prima di considerarlo veramente un top vorrei un attimino vederlo magari le prime due giornate. E in questo momento mi sento di darlo di seconda fascia. Sono convinto farà comunque abbastanza bene. Farà i suoi 5-6-7 gol, secondo me li può tranquillamente fare. È un investimento importante che potete decidere di fare per un giocatore di alto livello. Il secondo nome che vi do è quello di Federico Chiesa. Chiesa non è un giocatore che regala tantissimi bonus, siamo chiari. È un giocatore che regala sempre delle buone prestazioni, ci dà sempre il cuore, fa degli assist, fa ogni tanto dei gol. Però non è un giocatore che vi fa 10 gol. Poi magari quest'anno sorprende tutti. Però non lo è mai stato così. Di conseguenza sì, per questo ho deciso di non metterlo in un centrocampo di primissima fascia. Però comunque come seconda fascia è assolutamente uno dei migliori che potreste andare a cercare. E secondo me va preso fortemente in considerazione, anche perché comunque è titolare inamovibile, secondo me, dell'attacco della Fiorentina. Passiamo invece ad un altro nome che è quello di Douglas Costa. Ora, se ci basiamo su Douglas Costa delle precedenti due stagioni, è sempre partito a tanto, almeno nelle mie reghe, immagino anche a voi. E poi ha un po' deluso. L'anno scorso soprattutto non ha praticamente mai giocato. Però quest'anno credo che con i dettami tattici di Sarri possa veramente fare molto molto bene. L'abbiamo visto con l'Atletico Madrid che ha fatto veramente sfracieli. È un giocatore che magari ogni tanto potrà avere il suo periodo o no. Però secondo me è un giocatore che quando giocherà e giocherà tanto, secondo me farà veramente valere la sua importanza. E quindi potrà regalare tanti bonus. Soprattutto assist, comunque non è un gol ad orre. Però farà tanti assist, ha dei buoni piedi e quindi Cristiano Ronaldo, la punta centrale, potrà giocare veramente dai suoi assist. E quindi ve lo vado a consigliare. Un altro nome che vi vado a dare è forse un leggermente sorprendente ed è Benassi. Perché vi vado a consigliare Benassi? Perché Benassi è l'unico, insieme a altri due, Perisic che ora è andato via e un altro che non mi ricordo, è Gomez. Che ha fatto come centrocampista almeno cinque gol nelle ultime tre stagioni. Quindi credo che anche quest'anno possa verificarsi una situazione del genere. Comunque è un centrocampista che segna soprattutto nella fase iniziale. Quindi cosa fate? Vi prendete Benassi, datelo via a gennaio, non c'è problema. Però secondo me all'inizio farà molto molto bene e può comunque fare benino se la Fiorentina dovesse fare una buona stagione. Anche a livello di, oltre che di bonus, di prestazioni. Quindi assolutamente io ve lo vado a consigliare. Va pagato ovviamente meno, capiamoci, di un Hunder, di un Chiesa, di un Douglas Costa. Però è un giocatore che se preso, secondo me, può regalarvi le vostre gioie. Ho deciso di mettere in seconda fascia proprio per la sua propensione al bonus. Un altro giocatore che vi vado a consigliare come seconda fascia è Aaron Ramsey. Ramsey che è un giocatore col vizio del gol, veramente tanto segnato nell'Arsenal. E è un centrocampista che può giocare anche dietro le punte. Quindi chissà che magari Sarri non decida di cambiare modulo in corso d'opera, diciamo, e appunto utilizzare Ramsey leggermente più avanzato. Anche Damezzala è comunque un giocatore che attacca molto alla profondità, che si inserisce parecchio e che quindi può regalare molti bonus. Anche lui è un po' un incognito, non l'abbiamo mai visto in Serie A. E soprattutto dal punto di vista fisico non dà delle garanzie. Leggermente meno rispetto ai primi tre, però comunque Ramsey è un investimento che può essere fatto in maniera molto molto importante. Un altro centrocampista di seconda fascia è Fabian Ruiz, ragazzi. Fabian Ruiz, più che per i bonus, che comunque li fa, perché secondo me 4-5 gol li può fare più qualche altro assist, secondo me è proprio una questione di voto. Cioè, ragazzi, è sempre un 6,5-7 fisso. E Fabian Ruiz, oltretutto, io credo che sarà titolare in Amovibida, secondo me giocherà sulla fascia sinistra e veramente potrà essere un giocatore fondamentale per le vostre rose. L'anno scorso, sinceramente, non è che io l'abbia considerato più di tanto, però quest'anno credo che possa continuare la buona scia che ha fatto, diciamo, l'anno scorso e quindi regalare ancora tanti bonus ai propri fantanatori e secondo me è un investimento importante che può ricevere Fabian Ruiz, ma che merita. Passiamo all'ultimo nome, che è quello di Rodrigo De Paul. De Paul, ragazzi, che se dovesse rimanere all'Udinese, lo considero pienamente un giocatore di seconda fascia. Titolare in Amovibile, giocatore che è rigorista, batte le punizioni, calci d'angoli, quindi calci da fermo che possa regalare gol e assist. Ha dei buoni piedi, è comunque il fulcro centrale dell'Udinese, quindi riceverà tantissimi palloni. E secondo me, ragazzi, è un giocatore che potete cercare di prendere al fantacalcio. Non con un investimento esagerato perché riguarda comunque l'Udinese, però è un giocatore, ragazzi, che il bonus ve li regala e che secondo me può valerne veramente la pena a fine stagione. Detto questo, ragazzi, dopo domani, quindi domani in pausa, dopo domani uscirà il video sui centrocampisti di terza fascia e quindi io vi invito a mettermi in piace se volete altri video sul fantacalcio, vi invito a scrivermi nei commenti un po' quali centrocampisti, magari se mi sono dimenticato qualcuno, se volete un parere su qualche altro giocatore, ditemelo nei commenti, poi alla fine faremo un po' di video su quelli che saranno arrivati da quando è iniziato la serie del fantacalcio a oggi, quindi analizzeremo quasi tutti. E vi invito a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa che accada nel mondo del calcio. E a questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.